Ciao a tutti, con lo slogan Gustati il Natale, scegli un dolce artigianale abbiamo pensato di proporre alle pasticcerie e cioccolaterie di confartigianato in Presarezzo una campagna per promuoversi nella quale l'imprenditore, il pasticcere in questo caso si racconta, racconta la propria storia, i propri prodotti che sono fatti con il lavoro di tutti i giorni grazie a materie di qualità a materie di qualità e prodotti esclusivamente nei loro laboratori locali quindi una garanzia di qualità, di tracciabilità e di tradizione abbiamo fatto e creato questa iniziativa per sensibilizzare l'utente finale per far capire che esistiamo anche noi e che gli artigiani sono sempre alla ricerca di materiali e di prodotti di alta qualità grazie a tutti